Una linea che serve 6.800 pendolari al giorno, a binario unico per 65 km, con circa 40 passaggi a livello. Stiamo parlando della linea ferroviaria Cremona-Crema-Treviglio-Milano, secondo gli ultimi dati aggiornati di Trenord. Sebbene sia piena di criticità e problematiche, dai ritardi alle soppressioni, allo stato di degrado dei convogli e alla scarsa manutenzione, che vengono denunciati puntualmente dal Comitato Pendolari, nato proprio per attirare l'attenzione sui disagi e disservizi quotidiani, qualcosa sembra muoversi. Non sono arrivati treni nuovi promessi da almeno due anni, ma grazie alle continue sollecitazioni del Comitato, che si è dai tavoli regionali dove sono presenti anche i rappresentanti di Trenord e RFI, almeno una richiesta sembra sia stata ascoltata. L'arrivo da giugno del treno diretto Crema-Milano senza cambio a Treviglio, una conquista attesa da tanti anni. Noi ci siamo mosse, abbiamo fatto tante proteste, abbiamo fatto tante richieste, sempre sul pezzo, e abbiamo avuto delle risposte. Le prime sono state quelle in termini di treni nuovi, che non abbiamo avuto. Ci sono arrivati dei Vivalto vecchi con il riscaldamento rotto, questo poi ha portato a delle proteste. Adesso il riscaldamento sembra che sia stato risistemato. La novità invece è che è arrivato forse il treno diretto. Questa ci sembra una bella notizia, una bella risposta positiva. Vedremo se lo realizzeranno. L'importanza del comitato sta nel raccogliere le istanze e le criticità che ci vengono segnalate da tutti i pendolari che percorrono la nostra tratta, di modo tale da poterle tradurre nei tavoli dove si decide la sorte dei treni e della linea ferroviaria che passa da Crema. Sono 36 i treni che circolano ogni giorno sulla linea ferroviaria Cremona-Treviglio-Milano. Da novembre 2016 sono stati tolti i treni a doppio piano e inseriti tra Vivalto prima serie. Per quanto riguarda l'introduzione del treno diretto sarà una bella sfida, quella che dovranno realizzare i tecnici di Trenord e Regione Lombardia, dato che non sono previsti nuovi treni. Diretto, secondo me, tecnicamente, dovrebbe essere fermo qua da Crema, partire, andare a Milano, poi tornare indietro e fermarsi a Crema. Ne basterebbero, secondo me, due, uno alla mattina e uno alla sera per eliminare magari, e per avere anche più utenza, senz'altro. Grazie.